Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, sono Francesco Sultissi e oggi voglio parlare di questo libro. Questo libro scritto da Francesco Galvano, Verbum Vincent, libro che tratta sulle tecniche di negoziazione. Perché ve ne voglio parlare? Perché ho avuto modo di fare dei corsi con Francesco Galvano, tanto è vero che ho comprato il suo libro e ho anche la dedica personalizzata, quindi queste sono cose che fanno molto piacere e danno soddisfazione, avere la dedica dell'autore. Questo libro, che come spiega Francesco Galvano, parla di queste tecniche di comunicazione che noi usiamo tutti i giorni, quando negoziamo al supermercato con il salumiere, quando negoziamo per comprare un'automobile, quando parliamo con la moglie, comunque negoziamo con i nostri figli, eccetera, eccetera. Quindi li usiamo, magari non ce ne accorgiamo. Ecco, lui qui, in questo libro, ne spiega veramente in maniera molto semplice, quindi adatto anche a chi non è addetta ai lavori, e in maniera molto fluida. Quindi per me è stato veramente un piacere leggerlo, perché scorre veramente bene, scritto veramente bene, e arriva subito a quello che è l'essenza della tecnica di comunicazione, che ti spiega la tecnica a cosa serve, ma te lo spiega veramente in breve, quindi arriva direttamente al punto, ti dà subito quello che è l'informazione che a te interessa. Fa anche degli esempi, non si dilunga troppo negli esempi, ma ti fa degli esempi su vari scenari per farti capire al meglio questa tecnica, come usata, cosa serve e come si applica nella vita di tutti i giorni. Allora, di Francesco Galvana all'interno del libro trovate la sua bibliografia, quindi chi è, dove si è formato, in che cosa è specializzato, perché Francesco Galvana non ha scritto solo questo libro, ne ha scritti altri, e poi ve ne parlerò, perché ne ho letti alcuni, molto molto interessanti, quindi questo qui ve lo consiglio, perché è veramente alla portata di tutti, semplice da leggere, da capire, da attuare, sono tecniche di negoziazione veramente efficaci. Il libro è in vendita su Amazon, e potrebbe essere anche uno buon spunto per un regalo di compleanno di Natale. Grazie e arrivederci al prossimo video.